Vaccinazioni fino alle 22 senza appuntamento venerdì 25 febbraio a Como in via Napoleona. Un'iniziativa pensata per chi ancora non avesse aderito alla campagna o per chi ancora deve effettuare la terza dose. In occasione dell'open night tutti gli over 12 potranno presentarsi senza bisogno di prenotare. Dalle 20 alle 22 al lab dell'ex Sant'Anna sarà sufficiente presentare la tessera sanitaria e un documento di identità. Nel fine settimana spazio anche ai bambini. Sabato 26 e domenica 27 è in programma l'ultimo degli open day per la fascia dai 5 agli 11 anni. I piccoli potranno effettuare la vaccinazione senza appuntamento dalle 8 alle 20 in via Napoleona. Potranno effettuare l'iniezione se non lo avessero ancora fatto anche i loro genitori e accompagnatori. La riduzione delle richieste di vaccinazione ha permesso alla S.S.T. L'Ariana di riorganizzare l'attività e gli hub per destinare nuovamente il personale alle attività sanitarie ordinarie. In questa ottica a partire da domani nel centro vaccinale di via Napoleona verrà riunificata la somministrazione delle dosi per i bambini, gli adolescenti e gli adulti. La riorganizzazione degli spazi nel padiglione Negretti consentirà di avere comunque percorsi dedicati per il gruppo dei bambini dai 5 agli 11 anni e per il gruppo degli adolescenti e degli adulti.